A far vedere, ci sono dei libri generali tipo Liberazione animale di un filosofo australiano Peter Singer che ha teorizzato il tema dei diritti animali per primo, di sezione o scienza e ci sono dei libri di cucina, etica, dietetica, chiaramente Regan senza il bisogno di alimenti di diritti animali, che vorresti guardarli o... Sicuramente se la libreria non c'è l'ha li può ordinare. Mi sembra che la libreria comunque abbia almeno sicuramente questo, Liberazione animale di Peter Singer, che è un libro molto completo. E in pochi giorni comunque se le ordinate arrivano su libreria. Grazie ancora Fabio. Grazie a voi, grazie a voi del diritto. Grazie, grazie.